Se avete aperto questo video vi state domandando di cosa si parlerà in questo canale. Il che mi sembra alquanto corretto, ma c'è veramente un piccolissimo problema. Non lo so nemmeno io, però vi dico quello che so. Ero negli States ad agosto scorso con un caro amico e all'ennesima telefonata sulla medesima tematica si avvicina e mi dice ma perché non utilizzi il tuo canale YouTube per dare questi contenuti in modo tale da evitare di ripetere più volte la stessa cosa? E io, sarà stata la birra? Saranno stati gli OGM che ne conteneva? Ho pensato, ma perché no? Chi ci vorrà mai? Tanto un telefono di buona qualità ce l'ho, mi basta solo quello. Vi posso garantire che non è andata proprio così. L'idea dello smartphone è stata accantonata fin da subito. Uno dei problemi principali che ho avuto è che non mi rendevo conto di cosa stessi riprendendo. Quindi ho pensato di risolvere il problema acquistando una reflex. In realtà non ho risolto il problema, ne ho creato uno più grande. Poiché il mondo delle reflex era un mondo a me, all'epoca, completamente sconosciuto. Quindi che marca prendo? Che modello prendo? E per quanto riguarda gli obiettivi? E le luci? Prendo delle luci a LED? Prendo dei pannelli? Prendo dei softbox? E per quanto riguarda i microfoni? Quindi prendo un microfono da cravatta? Oppure prendo un altro tipo di microfono, uno shotgun da mettere sulla reflex? E per quanto riguarda le riprese? Come faccio? La ripresa all'alto come la faccio? C'è il cavalletto? Posso affidare la mia reflex a un cavalletto economico? Quindi ce l'ha da uscire pazzi. Abbiamo comprato tutto. Ora realizziamo il video. Ma dopo che l'abbiamo realizzato, come lo montiamo? Che programma utilizziamo? Che effetti ci mettiamo? Come avete potuto ben notare, dietro un video di pochi minuti c'è veramente molto impegno, ma non solo da parte mia, anche da chi mi riprende, o da chi ad esempio ha realizzato la parte grafica. Ah, a proposito, se volete vedere un artista in azione, vi lascio in descrizione i suoi riferimenti. Ora sono sicuro che dovrei dirvi qualcosa. Ma che cosa? Alfa, scusami, ricordami che dobbiamo comprare un gobbo in maniera tale che leggo ed evitiamo questi figuracce. Fammi ci pensare un attimo. Ah, sì, quasi dimenticavo. Ma è la parte dove faccio il saccente spocchioso, dove vi dico che vi sono lavorati in questo e in quest'altro, specializzati in questo e in quest'altro ancora. Ma anche no. Mi annoio io a dirvelo, figuratevi voi ad ascoltarmi. Scherzi a parte, tornando in temi un po' più seri, ogni video sarà un frammento dell'esperienza che ho accumulato nel tempo e cercherò di dare soluzioni semplici a problematiche comuni attraverso la tecnologia. Ci saranno delle recensioni, ci saranno dei consigli e ci sarà anche qualche piccola chicca, tipo questa. Alexa, apri il cancello. Pier Paolo lo faccio solo per gli amici di YouTube. Se pensate che le tematiche che affronterò in questo canale siano di vostro credimento, vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al canale e lasciandomi un bel like. Prima di lasciarvi voglio consigliarvi questa lettura di desiderio, comunque vi lascio tutto quanto sotto in descrizione. A me piace scoprire nuovi talenti all'interno dei nomi meno altisonanti e lo so che ora sembrate un po' confusi, ma ricordate che la lettura è l'arte del sapere e senza conoscenza non ci sarebbe né innovazione né tecnologia. Ciao e alla prossima! Ciao!